Riparte l'attività del Partito Democratico della provincia di Lecce, il segretario Ipazio Morciano sceglie di farlo restaurando la sua segreteria che sarà composta a 17 delegati, tra conferme e nuovi ingressi che puntano a tenere unite le varie anime del partito DEM, una mossa importante in vista del delicatissimo prossimo appuntamento delle elezioni regionali. Il nuovo vice segretario sarà Lavinia Puzio Vio, Gennaro Rocco e Anna Rita Perrone saranno i responsabili dei letti locali, sarà coordinatore della segreteria l'ex sindaco di Alezio Enzo Romano, la consigliera comunale di Lecce Paola Povero ha ricevuto la delega al tesseramento mentre Francesca Carone è stata affidata alla delega alle politiche sociali e abitative. Antonio Grassi si occuperà dei rapporti con l'università, Marco Miceli invece una delle new entry tra i non eletti a Lecce si occuperà di innovazione, tecnologia e informatica. Lorenzo Siciliano sarà il delegato alle politiche economiche, strutture e cultura, invece è stata affidata a Giacomo Fronzi, consigliere comunale di Trepuzzi. Nella squadra fanno parte anche Andrea Ciardo e Anna Toma, da sempre al fianco del presidente della provincia Stefano Minerva. Comunicazione e social invece saranno gestiti da Giacomo Cazzato, sindaco di Tigiano e Matteo Colavero, componente del PD di Maglie. E questa è la squadra che il PD della provincia di Lecce mette in campo per affrontare la prossima tornata elettorale, quella delle regionali 2020.